franco genzale presenta la siringa di mila martinetti dalle cronache provinciali di il mattino botte da orbia prato la serra a margine dei festeggiamenti in onore di san michele la rissa visto coinvolti sette giovanissimi e un cinquantenne il quale aveva osato protestare contro gli schiamazzi notturni dei ragazzi naturalmente ha avuto la peggio ed è finito in ospedale con ferite da taglio fratture del naso ed escogliazioni su tutto il corpo che dire meno male che san michele il santo protettore delle forze dell'ordine e se fosse stata la festa in omaggio di san gabriele protettore dei giovani cosa avrebbero fatto quei poco magnifici sette al malcapitato cinquantenne l'avrebbero impiccato